Ciao sono Patrizia, vi ringrazio intorno al nostro canale di Youtube Gattesti con Patrizia Schifrancesco La rezzetta che per presentarmi è Schifrancesco è Muschi di vita al curry Per le rezzette rispettive ne voglio dire Un cazzal di ostoroio Unte O lingua di ciappa O lingua di prass Do lingua di morco O lingua mica di curry madras Do sutta di grammi di muschi di vita O sutta di millilitri di smantena Ok, la rezzetta di ostoroio si sfrosciora sempre una in due tappe In tip che pone Muschi di vita per fuoco In altra tigaia, pregativa o base delle lecume Adesso poniamo Muschi di vita Ci dupa in tre tipi fati per le lecume comandras Prima etapa, si pone un tigaia Ancià Dopo altre etapa, diamo Muschi di vita Ancià in mano O sa puno Muschi di vita un pic in ulei si sare Am dat Muschi di vita in ulei si sare Ascoltam 2 minute sa scopestem un unt Si incepem Fatupit unt, adaugam cu Muschi di vita Ascoltam 2 minute sa scopestem un unt Asta si noi da cazzo di mut Abbiamo fatto le codice della Muschi di vita Lui abbiamo fatto la mischlocke Ascià che parte alta ho sussaggatata Mui mai la più delle parti di mischlocke Dove c'è per un medium Potrebbe che abbiamo un 12 mili Pi 10 su 10 Asta credo che gli sciapte Sciapte di luci la faccia Non mi piace Non mi piace Noi da 1.300 Perchè Muschi di vita Muschi di vita si sceglie Non si vanno a capire Ascià Accomando La sua Muschi di vita si diverga In ceti cest Se si fa a capire In ceti cest Si in altra tigaia Incepem vada Hoppa Incepem Puzzendo ulei Melego extravergine delle margine Puzzendo ulei Capa Dau un poapte un pic mai jos Acuma O sa calim un picurezza ceapa Impreuna cu O jumatate de cartel de usturoi Asa, nu foarte mult Intorcem pentru prima ora muschi di vita Foarte importante E se Se i muschi di vita O se faca un po' de crusta Ne rincolcem aici La ciapa nostra Adaugam acuma Tot impreuna Apio Selinapio Morco Si Prat Asa Punem un pic de sare Un pic de piper Un pic de piper Astfel de bagut Asa Mai facem un pic asa la usci turei Si Acum Daca lasam legume Dupa ca O 10 minute Asa Dupa ca am calit de Zicem 4-5 minute legume Acuma le pun un putin de apa Si dau foc la maximul La usci turei La usci turei Dupa ca am calit de apa Le usci turei Ia usci turei Ia usci turei La usci turei Le usci turei Le usci turei La usci turei e questo è tutto ora mescoliamo in qualche minuto e dopo poi mettiamo i muscoli di vita ma è molto importante che facciamo i muscoli di vita separati come faccio ovviamente 90% di muscoli di vita deve fare tutto separati ora ci siamo in tempo abbiamo le muscoli di vita ma le muscoli di vita mettiamo più singe e noi vogliamo un sos che sia amalgamato con le muscoli di vita quindi in questo momento le ultime 2-3 minuti di le muscoli lo mettiamo in sos questa è molto importante è molto importante la facciamo anche la un foc altrimenti è rispetto a se taia smettina e si se restrugiamo tutto quindi noi lasciamo a sapore le muscoli di vita da la foc minuto un minuto e lo intorciamo in continuare le muscoli di vita ma voglio che mi arate come lo montez a sapore le muscoli di vita le muscoli di vita a sapore le muscoli di vita le muscoli di vita le muscoli di vita vi resti buon appetito e vi aspettate la prossima rezzetta ciao ciao ciao